Nome? Tania Da dove vieni? Da Roma Perché sei qui? Perché vorrei partecipare a questo programma E perché hai scelto questo programma? Perché secondo me posso dare tanto E cosa vorresti dare in questo programma? Guarda, vorrei dare tanto amore, affetto, gioia, dolore, lacrime Ma lo sai che è una selezione per veline? Sì, infatti E tu cosa sai fare? Io sai fare tutto Puoi farci qualcosa di ciò che vorresti fare? Certo Ok, grazie Nome? Tania Da dove vieni? Da Roma Perché sei qui? Perché penso di essere perfetto a questo programma Che cosa sai fare? Un po' tutto Cioè mettetemi alla prova Cioè, ballare, cantare, lacrimare, sorridere, piangere, tante emozioni E farci sentire come canti Ok Ehm 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 Musica Musica Senti ma hai già un nome da te? Ehm sì Velops Ah Ah Perché hai scelto questo nome? Perché mi sento sempre troppo veloce nella vita Non mi fermo mai Ah Ok ci basta Ciao, grazie a te Ciao Ciao a tutti Sono Tania, vengo da Roma E il mio nome e il mio soprannome è Velops Votatemi e fatemi andare nell'ipogramma di Velone Grazie Ahahahah Ahahahah